Ora il mio corpo è accettato per davvero, da me e dagli altri. Ho recitato in un film in cui ammazzo un gangster nuda in una saula. Alcune ragazze mi hanno scritto sui social, chiedendomi consigli su come diventare anche loro più confident. Così ho deciso di fare un workshop per insegnarglielo ed è stato un gran successo. Sono cresciuta insomma. Chiudo l'ennesimo scatolone e vado in bagno per iniziare a imballare i miei mille prodotti per capelli e corpo. E la vedo. Ama te stessa, prima di tutto e prima di tutti. Alla prossima pillola!